Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma un chilometro di coda in diminuzione per un incidente adesso risolto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre in A1 code in uscita a Firenze Scandici provenendo da Roma e code sulla rampa di accesso alla FIPILI in direzione Mare. Spostandoci proprio sulla FIPILI rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!